Il mio nome è Monica Paol, io sono il fondatore di musicoterapia con l'ARPA e una nuova tecnica olistica. Lei vede qui un lettino e sotto un'ARPA con 112 corde e faccio trattamenti individuali, ma anche la formazione per tutti gli aperti del settore sanitario o olistica e basa sul sapere di Massaro in moto e anche su Virgio. Virgio ha fatto le differenze sui Hertz, 32 e 440 e poi che cosa? Io insegno questo in quattro lingue. E com'è andata? Qui è stato bello, sì ho fatto dei trattamenti, sono buona, molto buona. Devo ringraziare proprio. Grazie a tutti.